Ma è per uno spettacolo, vero? Sicuramente è per uno spettacolo che va in scena qua al Teatro Massimo. Vedi, è quello spettacolo lì che c'è scritto Alcatrax, sicuramente. Ma dici che sono attori? Eh beh sì, saranno gli attori dello spettacolo, boh, una roba del genere. Ma non li pagano che sono messi in vendita. Sono in vendita. Si sono messi in vendita. No, vabbè, ma qualcuno li faccia uscire. No, lasciami, lasciami. Mi libero? Mi libero? Mi libero? Aiuto? Eh... Aiuto? Provo a chiamare i piani alti? Vedi a finire, ti chiedono un po', mi sembra un po'. Mi sembra un aiuto, stanno chiedendo aiuto. Adesso va a vedere, rompo nella vetrina e mi libero. Mi libero? 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 Anche io, spero di vederli, boh. Lei è molto brava, lui è un po' statico. Sì. Lui è rassegnato. Secondo me il sedale rende meglio, rende di più. Funziona...